Nell'episodio precedente di Outlast Ah puoi nasconderti tra le piante Grazie Dio Ah lo vuoi salvarmi tu Ce n'è uno dietro Rosso fermati L'ho sentito E in questo episodio di Outlast Tu devi andare nel corredore con quella teoria lì Ci scommetto il cazzo No 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 E' la lombra russa Non lo so Ha il letto di panno Tantaruga Sì Non siamo morti Siamo scemi probabilmente Siamo di uno su Outlast assolutamente sì Salve salve E io ho cambiato orecchio dallo scorso episodio E' perfetto Allora il nostro problema più grande in questo momento Che è l'ultima batteria che ci rimane è a livello rosso Quindi speriamo di trovare batterie Ce la faremo? No No Guarda perché dovevi giocare così Adesso guarda un attimo per vedere dovevi andare e non puoi tirare giù Ok Ma io secondo me si arriva Qui sono arrivato quindi va andare di qua Sì Non si vede un capo Allora come facciamo Eh eh Devo far così Guarda in terra Sembra di aver visto qualcosa Eccola Brava Roma Brava Roma Sei inutile a qualcosa Non cambiamo Lascia la finire Non te la cambia Non te la cambia Non te la cambia Che rimane al buio finché non la cambia Ah rimane al buio finché non la cambia Però meglio forse se la cambia Non cambiavi Non entrai in questa casetta per essere mista Magari Croce V Ohma Quante belle reciproca Hi Chiudi Che mi sto C給 i settimici Un box Dai la cummi fare Quante cose ti ce l'ho Non capisco Si ti fa anche impugnare Che mi Mittel Non ho pensato a chi mi stanno Grazie Bravi C'è qualcuno C'è qualcuno C'è qualcuno C'è qualcuno Tipo io, c'era scritto nasconditi nell'acqua per non farti trovare, se coltella cosa ti nascondi. Io l'ho visto. Perché non ci sono risultato di qualcuno che dice che c'è un po' di acqua? Eccolo l'acqua. Sei ricaricata... Aspetta un attimo. Si, si. Sei ricaricata la botella ad minchiam. Mi ha trovato come fottere il sistema. Non devo volare, perché ti devi fare accoltellare. Dai, non vorrei farmi accoltellare. Puoi accoltellare? Sotto l'acqua cosa diceva? Ma capo il cerchio. Per sbirgiare, attenti. Dai, 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 dai. Fai il cocodino, vai. E' lo squadro in realtà. Si. Vabbè, colazzi, ti colazzi, ti colazzi, ti colazzi. Ma non affoga. Si, affoga. Probabile che affoga. Vai, 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 vai. Vai che sei spostato. Vai, vai, veloce, veloce, veloce. Ma sarà tutta una battaglia... Ma muori anche di puttoguino. Entra in casa e chiuditi. Stimulante con la luce, grazie. Apri. E chiuditi dentro. Chiudi. Chiuditi il chiavestello. Bravi che hanno inventato questa ottima cosa. Simos, si capiterà? Trova nel modo lo stai a fare. Si, si. Capiterà il momento in cui tu ti chiuderai dentro una casa e lì ci sarà qualcuno dentro con te. Tipo, tu dovrai aprire 27 chiavestelli. Aspetta, apriamici il microfono. Ma ci sono i tizi con le torce! Ma ci sono i tizi con le torce! Salta fuori! Faccia vera. Ovvio che non saltavo fuori, prendevo la cosa. Vai finestra, vai finestra, vai finestra, vai finestra. Ma ci sono le marce che le tiri giù scutandoci sopra o ci sono i chiavestelli? Non farti domande! Ah no, però è buio! Sto cercando qualche batteria qua in giro con quello e nasconditi. Eh, provi a vedere l'armale sull'armale? No, credo. Ma insomma, mi sfidi che cazzo stai? C'è il bagionossi da mezzo. Come facciamo sapere una cosa? Come facciamo sapere che posso entrare dalle finestre? Ti ricordi l'intelligenza? No, ma capisco, ma apri la porta! Cioè, uno entra dalla via e tu sei lì così! Poi tipo... Hai letto il pane! Ricorda, Simo. La morte... Il Gospel of Not. Canti di no. Eh già. Pensai che hai letto di... C'è la brucia? C'è la brucia? C'è la brucia? Bene. Perché se ho sparito i fototitoli qualcuno non lo studi? Non lo so. Tranquillo, Simo. La morte è l'essenza di questo gioco. Sennò si muore un po' di volte. Non è bello! Ma è stupido! Incrocio! No! Ecco, Simo. Non puoi stare a guardare la finestra, metti da coltellano! Di lì c'è un altro! Non lo vedo. Se non lo vede, non mi vede. Logica dei video. Sennò! E poi in acqua non mi so scena! E invece scena! Eh scena! Io sono un ricco per sentire! Interessante! Tutti gli altri tuoi spazi! Vedete che va su! Un po' alla finita! Tieni per un po' che gli altri si fanno! Ma... Si! Non avevo la buona idea farlo adesso! Soprattutto che non puoi... Ma quanto cazzo sono lenti, sinceramente? Ho già scena! Ti sentire la tua premia! Travolo! Ti sento? Te l'hai migliorata! Peccato! Dov'è? Che stupido! Si può si perdere da finito! ma entra e non ti puoi chiudere dentro siamo usati un mezzo si muoci dentro da un finestro secondo me non puoi chiesti e che cazzo si è tutto sfancurato perché ha aperto la porta e non ha chiuso qualche vista provo a tirare il microfono no non c'è qua scopete risaltare dentro la finestra adesso è buono scontato figlio ma ce n'è un altro Dando c'è un altro Dando vai di qua vai di qua vai di qua perché ho una brutta sensazione aspetta ragazzi c'è Gesù però c'è non è colpa mia cosa io non sto capendo niente ma che continua facendo what sei finito in una scuola a caso ma che caso c'è quello meglio cerca se c'è una batteria qua in giro sto sognando o ho perso completamente la testa la seconda allora è il mio allora è il mio allora è il mio Luca è in tre quarti in tre quarti con un chipmode classica cosa c'è guarda se c'è una batteria tipo di no 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 eh forse no porta shut the night here non posso aprirlo cosa belle mani che sembra un cazzo di intacolo hai dovuto fare la porta si no no il carrion no figlio va bene tutto perché perché è stocata questa scena ng non lo so perché non mi fa vedere h." I'm sorry I have to do this Sì tutto amato Ah, c'è una frase Non so cosa fa, ma si chiede davvero Ah, grazie I'm so, so sorry Chiesa I remember this Jessica And Lynn Ely Oh, fuck C'è una scuola No, no Vivo a altra strada una scuola C'è una scuola? Eh? Scusi? Aga gagaga Aga gagaga, sì Ci deve essere qualcuno che farebbe Interferenza Faranno interferenza sicuro Ma sembrano così bello la scuola qui dentro Cattolic school, the way to success Eh, bello Quello Ovviamente c'è il corridoio illuminato Mi sembra il gusto Ma non ti ami indietro Oppure premio semplicemente Ma muovi ti ami indietro? Muovi ti ami indietro Apri, questo si apri Ma puoi anche aprire tutto ad un po' Figa lo scatolo qui a liberare Ci sembrava un creep Da lì Nooo Perché mi ricorda la demo sto pezzo a me? No, la demo era molto più Si ma mi ricorda Responsabilità Gesù Ma tu Cosa farebbe Gesù? Non lo so Ed io ci inventerebbe una soluzione Io chiudo gli occhi Sì Simo Tutto d'un fiato Corri Sono pronto C'è il giallo Che sto scrittendo una parola Maia 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 Vediamo la musica sotto Sì Si che la sento Quindi non è che Non è per niente Ehm Corri Hai rito da te Ce l'hai No scherzo No si ce l'hai una Modalità Tartartarugata Vada Forza Oh 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 Si è stato svinto Vedete che è un campo di forza Lo hai evitato Tartaruga Tartaruga Ma qua ci sono gente Io te lo dico ho bisogno di una batteria Qui Dai come fanno messerci una batteria qui Eccola 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 Guardalo Guardalo Eccola Eccola Come Gesù Eccola Dai Scusa Ricarica Questa era bella Tu devi andare nel corredore con quella tele Lì ci scommetto il cazzo No 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 E' la lomba Mità Eccola Non 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 Tollerate Ma perché C'è la Grazie Si è preso del mare Poverino Io tipo Modalità Modalità di sicurezza attivata Riccardo Tartaruga! Tartaruga! Figa se c'è la neve! C'è roba rumigliosa! Figa, è un'altra batteria? Meno male! Non ne toccavamo più per 27 anni! Ma mi sembra che fosse un'altra roba rumigliosa anche lì sopra! No, devi dire di sopra lì! Guarda lì! No, era spia di Giappan. Tartaruga! Tartaruga! ... Hai fatto un miscoglio tra inglese e francese! Quello francese! No... Perché ancora i due non finisci mai? No, quello francese... Ma questo non c'è ancora? Ok! Mi sapevo è il tuo francese... ... Nei bagni? Dalla ragazzo no? Perché devo andare al gioco ragazzo? Perché è il sogno di ogni ragazzo! vai quanto me ne pentirò da 1 a 20 c'è una chiave no c'è una batteria no eh ma che che quante guarda quanti abbiamo? tre in tasca eh scusa no due eh perchè una l'ho usata subito trova una via d'uscita eh si sai sei in una scuola a cazzo guarda eh si certo e tu credici eh eh ti ricordi altra? Gesuuu l'uscita no no ma ovviamente non è l'uscita ma io volevo tutto tranne che andare all'uscita però poi ci deve andare all'uscita chissà è aperto what the fuck? no no quella sarà chiusa no 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 è chiusa ma che cazzo? perchè non era chiusa era meglio ma perchè non si vede la blu? per caso nel cestino ci vuol cosa nooo credici mi piace e io posso ah ok non stiamo impazzendo il papà di rossetti fa rumori strani rumori molest ecco perchè c'erano tante materie perchè sei in una cazzo perchè mi sto tremando tutto io e non vedo niente e non vedo niente quindi qua c'è un infarto sicuro perchè tu arrivi davanti a qualcosa mi stai continuando a trovare il controllo alla casa e si è aperto un cancello ma vabbè cosa? quanto mai? perchè è questo? perchè è questo? il profumo lo fanno l'occhio di noz ti hanno ucciso no non ancora beh, lo faranno se ci trovano qui qui chi sei? è tuo? non è tuo no è simile la mamma vai via tu dite chi l'è e cade la mamma si vai via no perchè ce l'ho uguale i venti con la dentro quale parte ti vai via e non capisci? ah signore pietà interruzione tienila questa ti ho si si ti ho Fangio non se capire un canco ti ho Domaki ti è delle biose